carissimi fratelli e sorelle oggi primo febbraio ascoltiamo l'epistola di padre pio a raffalina cerase del 20 aprile 1915 pagina 403 umiliatevi sempre dinanzi alla pietà del nostro iddio e da lui rendete sempre grazie di tutti i favori concessivi e questa sarà come la migliore delle disposizioni per ricevere nuovi favori che il celeste padre negli abissi del suo amore per voi e per concedervi non meritando essendo principio di sana logica ulteriori grazie chi a quelle ricevute non corrisponde con la gratitudine e con sempre e non mai stancabile rendimento di grazie sì confidate in dio e ringraziato le ho sempre e di tutto e così facendo sfiderete e vincerete tutte le ire dell'inferno se il video ti è piaciuto metti un like contribuisce anche tu a diffondere la parola di dio iscriviti al canale attiva la campanella e inizia a condividere con tutti i tuoi amici grazie di esistere